Finalmente cominciati i lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri di San Ferdinando in piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, gli agenti della compagnia locale temporaneamente trasferiti presso gli uffici di via dell'Azzaretto a Trinitapoli potranno presto rientrare nel proprio distaccamento alla fine delle operazioni di manutenzione che interessano attualmente la struttura. Le attività di restyling permetteranno di rendere maggiormente funzionali, sicuri e decorosi i locali dell'attuale caserma, circa due mesi per il completamento dei lavori durante i quali resteranno attivi soltanto gli uffici di ricezione e denunce con l'ingresso da via Isonzo, attesa in ogni caso per l'ormai agognato progetto della nuova caserma in via degli Ulivi, annunciata lo scorso anno e prevista nel 2030 attraverso i fondi del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. I servizi di pattugliamento e assistenza ai residenti sono ugualmente attivi nonostante il temporaneo deficit logistico che vedrà partire gli agenti dalla stazione di Trinitapoli. Entro la fine di novembre è previsto il rientro dell'intera compagna dei carabinieri presso la sede originaria di San Ferdinando.